Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! TikTok, influencer in ospedale per il nuovo trend sul cetriolo. I trend su TikTok, specialmente quelli più pericolosi, continuano a mietere vittime. L'ultima è Beck Hardgrave, influencer australiana, che è finita in ospedale a causa della nuova sfida sul cetriolo. Beck Hardgrave, influencer di Brisbane, è finita in ospedale a causa di un nuovo trend che spopola su TikTok. Stiamo parlando delle ricette di Logan Moffitt, il re dei cetrioli, che invita ad utilizzare questi ortaggi in ogni modo. La content creator australiana ha fatto sapere che proprio per colpa di un cetriolo, una sfida all'apparenza innocua si è trasformata in una serata decisamente storta. Con un video affidato a TikTok, l'influencer australiana ha mostrato proprio il momento in cui ha accettato la sfida e si è messa ad affettare il cetriolo. Il filmato ad un certo punto si interrompe e lei appare distesa su un letto di ospedale, con la mano fasciata. Beck ha raccontato Mi ero ripromessa di non cadere vittima di un'altra tendenza, ma eccoci qui. Avevo appena comprato quella mandolina e non avevo aperto del tutto la scatola, ma dentro c'era una protezione per evitare di tagliarsi. L'influencer australiana ha sottolineato che la sua pelle è stata affettata come il cetriolo stesso. Adesso dovrà tenere una fasciatura sulla mano fino a quando la ferita non si sarà del tutto rimarginata. Appurato che le tendenze su TikTok sono spesso pericolose, un appunto su questa vicenda è d'obbligo. Beck è stata imprudente. Prima di utilizzare un qualsiasi strumento è importante leggere le istruzioni